incontro con il grande squalo bianco ciao sono ugo tu chi sei? sono shaky il grande squalo bianco sono uno dei pesci più grandi sulla terra dove vivi? vivo nell'oceano e mi piace tanto nuotare nelle acque fredde cosa mangi? mangio tanti pesci diversi mi piace mangiare anche delfini tartarughe e leoni marini devi andare a caccia per mangiare? sì sono un bravissimo cacciatore posso sentire l'odore della preda da molto lontano i tuoi denti sembrano tanto affilati sì sono molto affilati e ne possiedo circa 300 sei pericoloso? posso essere molto pericoloso ma solitamente non attacco le persone invece spesso le persone ci danno la caccia sei veloce? si sono velocissimo la mia coda è lunga e potente mi aiuta a sfrecciare nell'acqua sei un tipo solitario? sì sono solitario ma a volte mi piace stare in piccoli gruppi ora devo proprio andare ciao shaky grande squalo bianco ciao ugo ciao 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 ciao